Un 55enne della provincia di Salerno è stato arrestato dagli agenti della sezione di Salerno della Polizia Postale. L'uomo, definito noto personaggio della rete internet con migliaia di followers sui propri profili social ed amato soprattutto dai giovanissimi, è ritenuto responsabile di divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico in quanto è stato trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale di natura pedopornografico trovato sui suoi numerosi dispositivi. Le indagini dirette della procura di Salerno sono frutto di una cooperazione internazionale tra il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma e le Polizie di Paesi Esteri.